questo programma è presentato da batik the fruit shake buonasera le previsioni per domani al mattino poche nuvole sulla puglia sereno sulle altre regioni al pomeriggio moderata nuvolosità sparsa sulle alche e sui rilievi del centro sereno sulle altre regioni caldo in pianura sulle regioni centro settentrionali brezze lungo le coste nelle valli e sui laghi temperature massime in lieve rialzo ovunque e comprese tra 28 e 31 gradi al centro nord dati servizio metero nautica elaborazione grafica epsom questo programma è stato presentato da batik the fruit shake gelati samson accendi l'estate nel nome del padre del figlio puoi sposarmi no grazie e dello spiritoso salto spirito chi lo dice apertamente si ti ho sempre amato chi no io potrei essere disponibile e chi non riesce proprio a dirlo io ho la sensazione di provare ma a che serve girarci attorno l'amore è la risposta andy mcdowell you grant quattro matrimoni e un funerale domani sera le 20 e 45 su italia 1 motorola v 51 sai prima chi ti chiama e per la gita una bella sorpresa il nuovo bicchiere di 20 guarda si può avere con la canzone direttamente dal bicchiere mamma tira fuori calamiti cd nuovo bicchiere di bel tè in acqua minerale vera in ogni compenzione un calamitico fluorescente in regalo dottore c'è una persona per quel lavoro per lavorare non c'è più bisogno di compromessi oggi c'è temporali belle scarpe temporali il tuo lavoro è il nostro lavoro autodromo di imola sul palco dell'heineken germin festival un weekend di grande musica il 16 giugno basco rossi alanis morisette irene grandi il 17 giugno off spring placebo incubus e molti altri heineken germin festival grazie a tutti gran pavesi dividilo con chi vuoi mal di testa fai entrare in azione aspirina rapida partita aspirina rapida la basti comincia ad agire subito e torni attivo come prima chiedi consiglio al tuo farmacista aspirina rapida in pole position contro il mal di testa il medicinale a controindicazione ed effetti collaterali sotto i 12 anni consultare il medico leggere che tenete il foglio illustrativo gran pavesi mediterraneo nuovo alle olive dividilo con chi vuoi ma che arti roma brucia la notte Acquista un telefonino Omnitel. Fino al 16 giugno la carta ricaricabile è gratis da Omnitel Vodafone. Skipper Life è il mio benessere quotidiano. È frutta arricchita con fibre e vitamine. Io sto bene perché vivo di gusto. Bevo skipper. Daiatsu IRP. Sportiva di natura. Nuovo correndo miniatur. Da Algida. Intelligent Beghelli per una casa intelligente e sicura. Si collega con il centro SOS, vi protegge dai furti e vi segnala incendi e fuga di gas. E contro i furti c'è una novità mondiale, vero signor Beghelli? Sì, oggi con Intelligent potete dormire con le finestre aperte, poiché dall'allarme prima dell'intrusione. Inoltre previene gli scassi avvisandovi anche sul telefonino. C'è un nuovo servizio. Medico amico, basta premere. Un medico del centro vi vede e vi parla dal vostro televisore per consigli utili e immediati. Perché è nato Intelligent? Per migliorare la qualità della vita. Rivolgetevi al vostro installatore. Credi di avere talento? Suonare, recitare, ballare, cantare, presentare. Hai talento ma sei senza esperienza? Hai le capacità ma ti manca la tecnica? Se hai dai 18 e 28 anni, cerchiamo proprio te per la nuova scuola di televisione di Italia 1. Chiamaci. Umore scusa montana, prima il piacere.